Aspettando il quinto raduno Fiat 500 Si terrà il prossimo 25 settembre il raduno di auto d'epoca Fiat 500 Che è giunto alla sua quinta edizione Organizzato da Fiat 500 Club Italia a coordinamento di Caltagirone In collaborazione con il gruppo dei Birbanti Si appresta a raccogliere le adesioni di tutti gli appassionati di questa piccola auto di casa Fiat Tutti coloro che vorranno partecipare con la propria Fiat 500 e anche auto d'epoca E altre marche potranno informarsi ed iscriversi già da ora Rivolgendosi agli organizzatori dell'evento L'evento avrà inizio con iscrizione e colazione sfilata presso la villa comunale Seguirà un giro per le vie principali del centro storico e zona nuova con dei piccoli punti di ristoro Infine pranzo e premiazione presso un noto locale della zona Maggiori dettagli del programma verranno dati in seguito Partecipanti e sponsor possono rivolgersi per informazioni ed iscrizioni a Maurizio Di Gregorio 339-4281-380 Fabio Messina 329-4125-260 Salvatore Marcinò 335-5303-905 Vi aspettiamo in tanti Grazie a tutti